Pasquale, tu hai visto il primo tempo dalla panchina, che idea ti sei fatto del gioco dei tuoi compagni? No, io sono d'accordo con Simone in intervista, con Piacenza, eravamo troppo lunghi tra i reparti e c'erano troppo spazi tra le linee, invece con l'Arezzo no. Purtroppo loro quando le squadre avversari vengono a giocare a Cremona, si mettono tutti dietro, per noi non è facile trovare spazi. Sono Davide e ho un messaggio per Maiorino, lo scorso anno con un sms ti ho paragonato a Marco Van Basten, se ricordi, adesso ti paragono a Rud Gullit, per la rapidità con la quale saltavano gli avversari, l'opportunismo e la precisione con cui hai infilato il momentaneo pareggio, continua a crederci. Ci ho scritto sul nome di mio figlio, di Cristian, quindi era dedicato a lui questo... Sì, anche mia moglie che c'era domenica. E come ci si sente a entrare in campo e cambiare letteralmente una partita? A livello personale è una situazione bellissima, perché entri, perdi 2-0, entri, fai gol, poi fai gol e vinci poi la partita, un giornata così non ti capita più.